Questo, io faccio l'esempio del libro, ma vale per ogni istante della nostra vita. Perciò nella nostra vita noi incontriamo ciò che serve a noi incontrare in quel momento. Se non ci serve, se non siamo nel punto nave giusto, noi non la incontriamo. No, l'essere ha un'economia perfetta, non è che ci mette davanti esperienze, ma guarda che cosa mi è capitato. È capitato perché è giusto quella, esattamente quella in quel momento. Se quella a te non ti serviva, nel bene o nel male, non la incontri, che te ne fai? Non la vedi neanche, non c'è, nella tua esperienza non c'è. Perciò incontri tutte queste cose che hanno senso nel tuo percorso. Allora, siamo di nuovo a Giulio, la casera Giulio ti ha dato uno spunto. Siamo di nuovo a Giulio. Allora, quella esperienza che incontri e che è perfetta per te in quel momento, è esterna a te, come sembra essere, o è una parte di te che si manifesta a te stesso? Perché se la leggiamo così, siamo nella dimensione dell'unità. Se la mettiamo come la cosa che sta là fuori, che io incontro, che mi capita o che subisco, allora siamo di nuovo dentro la separatività. Quando dico che la separatività è così profonda dentro noi, è che noi viviamo costantemente pensando che le cose ci accadano e che noi ci dobbiamo adattare alle cose. Tutto questo è quanto accade. È vero che una parte di noi vive così, è vero che gli psicologi descrivono le cose in questo modo, è vero l'adattamento dell'individuo, è vero ma fa tutto parte dello stesso meccanismo. Cioè bisogna spostare la prospettiva con cui guardiamo le cose. Se spostiamo la prospettiva, riusciamo a capire che cosa sta succedendo. Riusciamo a farsi un'idea, riusciamo a capire perché le persone, i giovani che muoiono, muoiono al loro esatto momento. Che ha un senso quella morte, che non è caticata. Ora si parlava prima di questo ragazzo, e si vado a morire in qualche parte. Capiamo che significato ha tutto questo. Poi per me la morte è interessantissima. Ecco, io oggi avrei dovuto parlare della morte. Vengono veramente interessanti. Comunque è lo stesso. La vita e la morte è la stessa cosa. Però, no, riflettevo su questo fatto. Perché noi siamo circa 6 miliardi di persone. E nell'arco di questa vita, tutti e 6 miliardi, moriamo tutti. 6 miliardi. Per cui si fa un gran casino quando uno muore perché ha fatto l'incidente, perché era giovane o perché ha fatto quello, ha fatto quello. O facciamo le cerimonie. Ma, dico, ma 6 miliardi di persone nell'arco di 70-80 anni. Sono tanti, eh. Non mi ricordo, una volta ho fatto un conto, credo che fossero qualcosa tipo 100.000 al giorno. 100.000 al giorno. Cioè, oggi muoiono 100.000 persone. Oggi nel mondo muoiono 100.000 persone. Ecco, è esatto. Cioè, ci rimpiazzano. Noi veniamo sostituiti. Ta-ta. Subito. Perché questa cosa? Perché la molteplicità in tutte le sue forme? Se lo si vede, è il pullulare della vita dove, se ci mettiamo nella prospettiva giusta, insomma, tutto quello che succede a noi esseri umani, siamo formichine proprio, cioè, così, poi, per ognuno per sé, per la propria vita, è importante quello che ci succede, combattere, mettere su casa, e non ti danno i documenti, e come si fa a fare la piscina sotto casa che non mi danno i documenti, il tetto, l'espessore, e cose. Insomma, se ci pensate bene, sono delle boiate gigantesche. Proprio, cioè... Sì, stavo per dire quello, poi ho corretto, a corredere. Capite? Sono cose, se le guardiamo, veramente, le guardiamo dalla prospettiva giusta, perdono molto dell'attaccamento che creano dentro di noi. Ah, la prospettiva! Cambiamo di prospettiva, ne mettiamo un'altra, un'altra prospettiva, perché questa ha ragione, giusto? Hai sempre ragione, però, va bene. Ascolta, è vero perché la prospettiva nella quale noi siamo quando ci sbattiamo per i documenti e non è sbagliata, è solo un'altra. È solo un'altra. E infatti, il percorso nostro è di consapevolezza sulle prospettive con cui guardiamo le cose. Però questo ce lo insegnano anche, in effetti, se noi guardiamo con un po' più di distacco certi accidenti che ci accadono nella vita, li viviamo un pochino meglio. Questa è una cosa basic della psicologia, basta che cambia un po' di prospettiva, è quella cosa che tu vivi come un grande dolore, la vivi magari sì sempre come un dolore, ma un po' meno. Cambiano le cose, cambiare la prospettiva. Qui, quello che è stato fatto, è cercare di cambiare in maniera radicale la nostra prospettiva, cioè di darsi la possibilità di vedere la vita, questa che conosciamo così, oltre la vita. E di vedere quali sono tanti meccanismi che ci sono da come noi sperimentiamo l'esistenza a oltre questa dimensione esistenziale. Ce ne sono veramente molti. Quello che vi dicevo prima è che noi cerchiamo di focalizzarci su un aspetto e oggi, non mi ricordo chi, ha detto ma perché non parliamo un po' delle varianti, che non se ne parla mai in maniera abbastanza approfondita. Ora, le varianti è un aspetto, però qui si entra in una dimensione molto precisa, molto specifica dell'insegnamento. Punto interrogativo adesso.